Un futuro sereno per le terme di Agnano. L'amministrazione comunale ha infatti per il polmone verde della periferia occidentale di Napoli un progetto di recupero e valorizzazione anche a livello internazionale del centro medico naturale. Nel corso dell'inaugurazione della nuova struttura delle piscine scoperte, il sindaco Luigi De Magistris ha sottolineato l'importanza di aprire ai privati, considerando le ridotte risorse comunali, mantenendo però il controllo pubblico delle terme. L'intero complesso di Agnano vanta oltre 60 ettari e ha delle strutture termali uniche, ha precisato il presidente Vincenzo Spadafora, presentato la struttura al primo cittadino ed anche egli ha lamentato la mancanza di fondi e soprattutto il credito vantato nei confronti dell'ASL, pari a 8 milioni di euro, maturato dal 2006 ad oggi per le prestazioni termali offerte in regione di accreditamento. Il problema dell'aver riqualificato degli spazi, che è un fatto molto importante, credo che questa società un anno fa era una società che non credeva più tanto in se stessa ed era una società un po' assuefatta come tante altre realtà purtroppo di questa città e che invece adesso è una società in cui anche i dipendenti, le persone che ci lavorano, vogliono mostrare che è una struttura che può essere degna di essere una delle strutture più importanti a livello europeo. Grazie a tutti.